Ha reso un inferno la vita dell'ex compagna che non voleva più avere una relazione con lui. Un 45enne piacentino è stato arrestato per stalking. Le indagini svolte dalla polizia, in base a quanto si legge nella nota, hanno permesso di ricostruire una lunga serie di condotte vessatorie perpetrate ai danni della donna, la quale veniva costantemente pedinata e seguita in ogni spostamento dall'uomo, che con richieste assillanti pretendeva di convincerla a ricominciare la relazione sentimentale. In alcune circostanze, di fronte al rifiuto opposto dalla donna, lo stalker ha reagito anche insultandola e minacciandola di morte. La vittima, costretta a vivere in un costante stato di ansia e di paura, aveva cambiato le proprie abitudini di vita, arrivando a spostarsi unicamente se accompagnata da altre persone, per il timore di incontrare l'ex. Il 45enne era già stato condannato in passato per atti persecutori nei confronti della donna, reato per il quale aveva anche scontato un periodo di detenzione, ma nonostante tutto continuava a tormentare la ex. All'esito delle indagini, il GIP di Piacenza ha emesso su richiesta della Procura la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del 45enne.